Allora, vabbè, ho trovato l'errore, ovviamente, ovviamente nθ non andava a zero, perché n va a infinito, quindi non è θ su n, è nθ, quindi la cosa che ho scritto prima non era vera, però si può approssimare allo stesso, per quale motivo? Allora, supponete per esempio che n sia pari, facciamo il limite soltanto per n pari, allora se n è pari, l'integrale tra zero e 2π della radice di uno meno coseno di 2kθ in dθ, questo qua è uguale all'integrale tra zero e 2π coseno di 2α e coseno 4α meno sen 4α, quindi qua mi viene radice di 2 sen quadro di kθ, quindi dθ, quindi mi viene radica al 2 per l'integrale tra zero e 2π del valore assoluto del seno di kθ, dθ, ma l'integrale del valore assoluto del seno fa 4, quindi qua diciamo 4 radica al 2, quindi mi viene, andando a sostituire, questa cosa qui si comporta, diciamo almeno se n è pari, si comporta come n più 1 per 8r radica al 2, 8r, 4 radica al 2 per radica al 2, dopo. se n è dispari, diciamo, vediamo un po', se n è dispari bisogna fare un'altra sostituzione qua, facciamo solo nel caso n pari così, allora, vediamo un po', ci sta sto risultato? ci può stare, diciamo, nel senso che 8r piccolo è la lunghezza di una cicloide quando io giro su un piano, là io ho fatto n giri, perché la regrazione è uguale a nr piccolo, ma in realtà è come se ne avesse fatti n più 1, cioè nel senso che la circonferenza è girata su se stessa n più 1 volte, perché girando anche sulla circonferenza grande, diciamo, e quindi, è plausibile, questo non lo so se è corretto, diciamo, va controllato ulteriormente, però è plausibile. Nel caso nostro che n era uguale a 4 sarebbe 40 volte raggio piccolo. Per confronto, la nostra circonferenza grande, sul quale ruotavamo, era 8π, era 2πr grande, ma r grande era 4r piccolo, quindi era 8πr piccolo, quindi era nettamente più corto. Va bene. Adesso invece voglio fare un altro esercizio, simile, cioè non tanto di pezzo, però voglio, sarà una cosa di 5 minuti. Perché voglio soltanto mettere in pieglievo un dato. Adesso ho la mia circonferenza, la mia circonferenza piccola, stavolta la metto qui dentro. Allora... Allora... Ben disegnato, non so, però... Più o meno abbiamo fatto un rapporto raggio grande e raggio piccolo, sempre 4 a 1, e stavolta la faccio girare di lì. Cosa mi verrà? N-1... N-1... Viene... Vabbè, lo potete fare, controllare, eccetera, però N-1 viene perché? Perché il centro della circonferenza non sta a N più 1r piccolo, ma sta a N-1. E poi viene perché quando la circonferenza gira qua dentro, gira al contrario, qui, qua, qui, cioè... Va bene. Allora, mi interessa un caso particolare. Vabbè, potete fare la stessa cosa, calcolare la lunghezza, calcolare l'area, in questo caso calcolate l'area della differenza, c'è più grande e meno in petali, quindi completare l'esercizio con questo qui, lo potete fare voi per esercizi, è analogo a quell'altro. Quello che mi interessa è il caso N uguale a 2. Allora, questo è il caso N uguale a 4, va? Che succede nel caso N uguale a 2? Andiamo a fare la parametrizzazione. Questo l'ho dato una volta a un esercizio del conto. Allora, cosa mi viene se N uguale a 2? Mi viene X di teta uguale... 0. E Y di teta? Aspettate un attimo, perché Y di teta qua è sbagliato. Allora, dobbiamo fare un attimo, perché... Qua probabilmente dovrebbe venire più. Vediamo se con questo errore, con questa correzione funziona. Allora, mi viene 2R piccolo per coseno di teta. Cioè, R grande per coseno di teta. Cioè, per teta uguale a teta sta qua, per teta uguale a pi greco sta qua, per teta uguale a pi greco sta qua, per teta uguale a pi greco. Allora, qui si trova. Probabilmente è corretto. Poi lo fai contro l'alto. Probabilmente è corretto. Oh, perché mi interessa mettere in luce questo comportamento? Il comportamento è importante per un fatto storico. Cioè, se tu fai ruotare due ruote, una dentro l'altra, quella che ruota ha raggio la metà, due ingranaggi dentati. No, li fai contro l'alto, l'altro, l'altro, la metà dei denti. Ok? Allora, che succede? Che un certo punto fisso della ruota piccola descrive una retta, una traiettoria rettilinea, cioè un segmento, va su e giù. Questo è importantissimo. Perché Come le hanno fatte le prime linee dritte? E ce le fa con la riga, e la riga chi l'ha fatta? Così. E molto meglio, cioè voglio dire, sì, tu puoi fare una riga tendendo uno spago, quello lo puoi fare, prendi, tiri, e ti viene la linea retta. Però poi, vacci a tagliare un pezzo di marma. Come ce lo tagli? Invece, se tu hai due cose dure, quello ti dira, una volta che hai aggiustato il raggio, per cui, cioè fare delle cose tonde è facile. Tu, piandi una cosa, prendi con lo spago, tendi al massimo, poi non c'hai una punta, e incidi. Nel momento in cui, tu hai, diciamo, le ruote del raggio giusto, la ruota piccola del raggio giusto, metti due ruote di metallo, tu, con una punta là, riesci a incidere, a tagliare, piano piano, tagli una cosa dritta. Ok? E questo era, vabbè, non nella forma, come al solito, io gli do, primo, idee scadure, che sono state già sfruttate, secondo, in forma naiva, ingenua. Però, storicamente, questo qua è importante, perché, diciamo, è servito per fare, delle linee dritte. È un, una procedura che funziona. Ok? Ok, va bene, allora, adesso, torniamo, ai nostri, criteri di esattezza, per le polvi differenziali. Sì, probabilmente, dovrebbe essere corretto, perché c'era pure il fatto, che appunto, la y, stava da là, veniva rovesciata, la parte interna, quindi forse quello, corriggevo, almeno, lo faceva diventare più. Va bene, allora, primo criterio, di esattezza, per le forme differenziali, per le forme differenziali, si ha omega, una forma differenziale, di, classe, c0, c0, su a, supponiamo che a, sia un aperto connesso, non mi voglio interrompere, lo spiego dopo, cosa significa connesso, l'abbiamo già detto, nell'analisi 1, mi pare che debbo, la definizione, in generale, però, in ogni caso, lo dico, lo sapete, infatti, un benissimo, poi, la definizione precisa, la devo dire, poi, diciamo che, omega, è, esatta, se, solo se, per ogni, fi, appartenente, a, fi, grande, di, fi, q, a, per ogni, fi, si, fi, grandi, di, pi, q, sono l'insieme delle curve, in cui questo segno, parte da pi, arriva a q, non me lo fate scrivere, insomma, si capisce, l'ho detto, quindi, è registrato, eh, l'integrale di omega, lungo fi, è uguale all'integrale di omega, lungo fi, eh, se, solo se, eh, l'integrale, eh, di omega, lungo fi, è uguale a zero, per ogni, chiusa, quindi, eh, quando, noi abbiamo, che, la, mia, differenziale, alla nostra, forma differenziale, mi dà un integrale, che è nullo, su ogni curva chiusa, oppure, un integrale, che non dipende, dal cammino, di percorrente, dal cammino, dal percorso, ma dotando, dal punto iniziale, al punto finale, allora esatta, e viceversa. Allora, eh, questa implicazione, già fatta, perché, abbiamo visto, che se l'omega era esatta, era integrale, di tf, e allora veniva, f di fi di p, f di fi di q, meno f di fi di p, se la curva è chiusa, p e q coincide, e viene zero, quindi, questo è banale. Poi, anche il discorso, che questo, è equivalente a questo, l'abbiamo pure già fatto, che abbiamo visto, che, eh, io posso, almeno a parola, abbiamo detto, cioè, nel momento in cui, supponiamo, per esempio, che il cammino, non dipenda, cioè, l'integrale, non dipenda dal cammino, allora, prendiamo la curva chiusa, io prendo un punto, sulla curva chiusa, o la curva chiusa, non si muove da, da p, e allora l'integrale, è banale, diciamo, eh, allora, non c'è nulla, da dimostrare, perché, se invece, la curva chiusa, non, diciamo, io prendo una curva chiusa, che passa per qui, chiedo scusa, qua c'è stato il tempo, prendo una curva chiusa, che passa per qui, eh, allora, io ce l'ho, fi, che vada, poi prendo, meno psi, meno psi, vada a q a p, li metto insieme, e faccio una curva chiusa, quindi, l'integrale fa zero, quindi l'integrale sono fi, più l'integrale sono meno psi, deve fare in zero, quindi, l'integrale è fi, deve essere uguale, l'integrale è così, questo dimostra, la freccia che va, da sinistra verso destra, se l'integrale, non, non dipende dal percorso, eh, l'integrale, lui con una curva chiusa, la posso fare, facendo la curva che non si muove da qui, ok? Cioè, una curva chiusa, parte da qui, e arriva a qui, allora, io prendo la curva chiusa, che, la curva chiusa, che non si muove da qui, siccome l'a deve essere zero, l'integrale viene zero, e che vuol, siccome l'integrale non dipende dal percorso, l'integrale lungo ogni curva chiusa deve fare zero, quindi, questo dimostra, l'altra freccia, se sono stato frettoloso, lo ripeto, prima ho dimostrato questa, allora, c'hai due percorsi, hai fi, e psi, fi e psi, sono messi così, vanno da pi a qui, allora, meno psi, chi è meno psi? meno psi di t, è uguale a psi di, psi era definito sull'intervallo ct, cd, la curva meno psi, è definita come psi di c più d, meno t, t appartenente, di nuovo all'intervallo cd, allora vedi che, quando t uguale a c, qua mi viene psi di d, quando t uguale a d, qua mi viene psi di c, quindi, la curva meno psi percorre, fa esattamente quello che fa psi, ma all'incontrario, quindi invece di andare da pi verso q, va da q verso q, l'integrale lungo meno psi, questo è chiaramente equivalente a psi e diverso opposto, è l'opposto, quindi se io faccio l'integrale di omega lungo psi, questo è uguale a meno l'integrale di omega lungo meno psi, ok? questo è evidente, che abbiamo detto, quando camminare verso le curva, l'integrale, la curva differenziale cambia sempre, allora, se io metto insieme meno psi e fi, cioè faccio prima fi, e poi meno psi, cosa ho ottenuto? Una curva chiusa, allora, se so per i pochi che l'integrale lungo ogni curva chiusa fa zero, cosa scopro? scopro che l'integrale di omega lungo fi, più l'integrale di omega lungo meno psi, deve fare zero, andate a sostituire questa, che l'integrale di omega lungo meno psi, è meno l'integrale di omega lungo psi, portate dall'altra parte, e avete ottenuto questo, chiaro? viceversa, supponiamo, quindi ho dimostrato questa freccia, questa freccia l'ho dimostrato, supponiamo invece, che, di sapere questo, io so questo, l'ipotesi è questo, adesso io voglio andare, voglio fare l'integrale lungo una curva chiusa, questa è la curva chiusa, sì, parto da p e arrivo a p, posso fare un'altra curva chiusa, psi di t uguale a p, p appartenente a zero o meno, la posso fare questa, questa parte da p e arrivo a p, qual'è l'integrale di omega lungo psi? fa zero, per quale motivo? qualunque sia la formula differenziale, qua, tutte le, diciamo, dx con i fa sempre zero, perché x con i non si muove, quindi, l'integrale lungo questa, deve essere uguale all'integrale della curva, che non si muove, che staziona, per tutto il tempo, e quindi, siccome i due integrali, devono essere uguali per ipotesi, l'integrale lungo una curva chiusa, che deve fare, forse, forse, è chiaro? Quindi, questo è, quindi, questo è equivalente a questo, questo, significa questo, cioè è rimasto da vedere soltanto questo, questo deve essere ancora dimostrato, chiaro? andiamo a cancellare, di dietro, e dimostriamo, grazie a tutti, Bene. Allora. Vi mostreremo che A, diciamo, se A è connesso, prendo Q appartenente ad A, diciamo, prendo X con 0 appartenente ad A, e X appartenente ad A. Allora, esiste un cammino FI che parte da X con 0 e arriva fino a X. Quindi io ho X con 0, X, e l'insieme dei cammini che parte da X con 0 e arriva fino a X è non vuoto. Quindi vado a definire F di X come... Allora, questo è il mio A. F di X è l'integrale lungo FI di Omega, dove FI è un qualunque cammino che parte da X con 0 e arriva fino a X. Ok? Il problema è il fatto che sia ben posta la definizione. Nel senso che uno potrebbe dire, vabbè, arrivi tu, scegli FI, arriva un altro, scegli EPSI. No, per ipotesi noi sappiamo che se ho due cammini che partano da X con 0 e arrivano a X, l'integrale è uguale. Quindi qualunque cammino scegli, l'integrale viene sempre lo stesso. Quindi questa definizione è ben posta. La buona posizione o posittura della definizione è data. Adesso io però, cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che dF in dx con i calcolato in X deve fare a con i. Questo devo dimostrare. Questo è da dimostrare. Per ogni X appartenente ad A e per ogni compreso, tra l'ultimo, è N. Allora, andiamo, chi è? DF in dx con i calcolato in X. Questo è il limite per T che tende a 0, se vi ricordate, di F di X più T e con i, meno F di X fratto T. Questa è una derivata direzionale rispetto alla redirezione dell'iesimo vettore della base canonica. Ricordate F di punto di partenza più T numero F di X fratto T, che nu veniva preso di norma unitaria. E con i e con i è pieno al monitario, è la derivata parziale di iesima e la forma più semplice è scriverla così. Se la voglio scrivere per esteso, sicuramente faccio più fatica, insomma, perché devo scrivere tutte le variabili, eccetera, eccetera. Invece così, scritta così. Ok. Devo andare a calcolare questo limite. Ma chi è F di X più T e con i? Per esempio, in questo caso, mi sposto da questa parte e questo è il punto X più T volte e con 1. La figura la posso fare solo in due dimensioni, no? Due o tre dimensioni al massimo. Allora, come posso arrivare io fino a X più T e con 1? E l'idea è molto semplice. Siccome il cammino è arbitrario, me lo scelgo io. Fino a X uso il cammino di prima. Da X, mi stai risultando un cammino che vada da X a X più T e con 1. Allora, andiamo a prendere questo cammino. Il cammino lo chiamo Psi di... Non posso usare la T perché sta già impegnata. Se ero più furbo ci mettevo H, ma comunque... Adesso che ho già usato la T, scrivo R. Psi di R è uguale a X più, se preferite, R e con 1 per R, che appartiene a 0 T. Allora, vedete, se R è uguale a 0 viene a X, se R è uguale a T viene a R, scusate, qua e con I. E con 1 era nella figura. Qua è con 1. Ok? Allora, quando io vado a fare F di X più E T e con 1, T e con I, meno F di X fratto T, cosa mi viene? Per arrivare fino a X più T e con I, io devo prima seguire questo percorso, poi seguire Psi, poi ci devo togliere l'integrale lungo il primo percorso. Non l'ho scritto proprio, è anche quello là. Una volta viene considerato col segno più, una volta viene considerato col segno meno, quindi si cancella. Quindi mi rimane soltanto l'integrale tra 0 a T di, che cosa? Qua devo fare, scusate, devo fare l'integrale lungo Psi di Omega diviso T. Facciamo tutti i passaggi. Dove Psi è questo qua, quindi cosa devo fare? Devo fare Somma per G che va da 1 fino a M di 1 su T per l'integrale tra 0 e T di A con G calcolato in X con 0 in X più T e con I per la derivata di X con G in DT in D R calcolato in R, in D R, allora qua, scusate, qua c'era R. Tuttavia, quando andate a scrivere questo per esteso, qua è X con 1, X con I più R, X con N cioè l'unica coordinata che si muove è la coordinata Iesima. Quindi, quando andate a calcolare queste derivate, fanno tutte 0, tranne quella quando G è uguale a I. Quindi qua cosa mi rimane? Mi rimane 1 su T, l'integrale tra 0 e T di A con I di X più R e con I in D R. Allora, questo che cos'è? Non è altro che il terreno fondamentale del calcolo integrale. Qua stiamo facendo, integrando tra 0 e T questa funzione e la stiamo dividendo per T. Siccome questa funzione è continua, qua per T che tende a 0 diviene A con I di X. Cioè, se preferite, dico sia Y maggiore di 0. Esiste un delta maggiore di 0, tale che se T è minore di delta, allora A con I di X più T e con I meno A con I di X è minore di Epsilon. Ma R, essendo compreso tra 0 e 1, questo implica anche, implica che A con I di X più R e con I meno A con I di X è minore di X per ogni F compreso tra 0 e 1, se volete. Comunque l'integrale lo stiamo facendo su, tra 0 e T, T l'abbiamo preso con T. Lì possiamo farlo solo da una parte, tanto sappiamo che questa funzione è derivata. Ok, quindi applicate quello, quindi quello là sarà compreso tra A con I di X meno Epsilon e A con I di X più Epsilon per T e troviamo la media integrale e trovate per l'abitualità di Epsilon, passate a lì e per l'abitualità di Epsilon scoprite che l'idea fa A con I di X. E quindi abbiamo dimostrato esattamente quello che dovevamo dimostrare. Noi dovevamo dimostrare questa e l'abbiamo dimostrato. Quindi vale questo primo criterio di esattesa. Quindi il primo criterio di esattesa cosa facciamo? Allora facciamo un attimo un viagguito. Allora facciamo un attimo un viagguito. Dopodiché passiamo al secondo criterio. Abbiamo introdotto le forme differenziali e integrali come finite le forme differenziali. In merità, queste qua, noi diciamo esiste una teoria più estesa. Noi faremo soltanto, le abbiamo chiamate forme differenziali, ma in realtà queste si dovrebbero chiamare 1 forme differenziali. Le 1 forme differenziali si integrano sulle curve. Le K forme differenziali si integrano sulle superfici di dimensione K in Rn. Allora, partiamo da casi semplici. N uguale a 2, N uguale a 3. N uguale a 2, c'è i sostegni delle curve in R2. In N uguale a 3, dobbiamo ancora definire, ci sono oltre i sostegni della curve, io posso avere un'elica in R3, posso avere un filo di ferro in R3, come sostegno di una curva e così via, ma posso anche avere un pezzo di superficie. Noi una porzione di superficie regolare la definiremo prossimamente. Ok? Perché ci sono da calcolare le lunghezze e le curve, ma ci sono da calcolare anche le aree delle superfici. E va bene. Però, vedete che in R3 ho sia le lunghezze, per esempio, ho un solito, ho alcuni spigoli, oppure le attaccature tra le superfici sono sostegni di curve, quindi sono da, per esempio, che ne so, un tronco di cono, ha due circonferenze sopra, oppure lo taglio non orizzontalmente e sopra mi viene un'ellista. e così via. Però ho anche le superfici, quindi ho, diciamo, delle oggetti di dimensione 1, ma anche oggetti di dimensione 2. Poi, se potessi disegnare le cose in R4, in R4 avrei di nuovo dei sostegni di curve, le curve le abbiamo definite a valore in Rn, quindi che ce ne importa quant'è n? Ce le abbiamo in R2, in R3, in R4, in R... quanto ci pare, avrei di nuovo delle superfici bidimensionali, però avrei anche delle superfici iper-superfici tridimensionali, perché un iper-solido di R4, la sua frontiera sarà una superficie tridimensionale. Se io prendo la sfera unitaria in R4, x1 quadro più x2 quadro più x3 quadro più x4 quadro meno uguale di 1, se vado a mettere uguale a 1, quella è un vincolo su quattro variabili e tre rimangono libere. Quindi, quella là sarà... se è la superficie della sfera, è una superficie, ma non è una superficie nel senso bidimensionale del termine, è un'iper-superfici tridimensionale. Ora, per i nostri scopi, noi questo discorso non lo facciamo, ma si può fare. Si può fare. Più sali di dimensione, più ti rendi conto che l'integrale più potente è quello delle forme differenziali. Perché? Diciamo, c'è un modo naturale di estendere questo tipo di integrale alle superfici k-dimensionali in Rn, che è usare le k-forme differenziali. Noi questo non lo faremo, quindi non faremo... Noi cosa potremmo fare? Potremmo fare le due forme differenziali che andranno integrate su lungo superficie di R3. Questo non lo faremo, per scelta, perché non vogliamo introdurre confusione. Però si può fare, in realtà. se uno vuole vedere la teoria delle k-forme differenziali, che poi tra l'altro serve molto a capire bene come stanno le cose, perché, per esempio, noi vedremo anche le formule di Gauss-Green, poi vedremo il teorema della divergenza come conseguenza delle formule di Gauss-Green, poi vedremo il teorema di Stokes. In realtà sono tutti figli di uno stesso teorema, che ddω fa 0. Cioè, se noi facciamo il differenziale esterno e diciamo una forma differenziale, avviene una due forma differenziale. In R3 diciamo ddω fa sempre 0. Però questo qua non siamo in grado di di poterlo spiegare qua. Tornando a noi, noi abbiamo introdotto queste uno forme differenziali. Abbiamo introdotto le forme differenziali perché non ne useremo altre. Le forme differenziali si indicano lungo le curve. Tengono memoria del fatto se sto percorrendo la curva in un verso o nell'altro. In generale dipendono, il loro integrale dipende dal verso di percorrenza. Non dipende quando passo da una curva a una curva equivalente ed equiversa. Quindi, il discorso se percorro la curva più velocemente o meno velocemente non fa niente. Dipende sostanzialmente dal sostegno che percorro. Da quante volte lo percorro quello sì perché fa cambiare l'integrale. Da in che verso lo percorro pure ma fa cambiare solo il segno dell'integrale. Poi abbiamo introdotto delle forme differenziali speciali quelle esatte in cui l'integrale te lo puoi fare senza fare nessun calcolo perché diciamo se conosci una primitiva della forma questo è uguale alla primitiva della forma calcolata nel punto di arrivo meno la primitiva della forma calcolata nel punto di partenza. Quindi queste forme differenziali si chiamano esatte. Allora queste forme differenziali noi le ricerchiamo come pepite d'oro perché se sappiamo che una forma differenziale è esatta diciamo sicuramente stiamo a posto perché tanti calcoli sono semplificati è un po' è la stessa cosa quando cercate una forza di lavoro volete sapere se è conservativa se è conservativa c'avete l'energia potenziale allora per calcolare il lavoro fatto al campo di forze sapete che basta considerare la differenza tra le energie potenziali tra i due punti tra i quali vi dovete muovere. È la stessa cosa. Dopodiché abbiamo visto un primo criterio una condizione necessaria al formo differenziale se è esatta è chiusa almeno se c'ha le derivate se è di classe c1 ed è esatta è chiusa poi abbiamo visto che se una forma differenziale è c0 e sappiamo già che l'integrale questo è quasi tautologico questo criterio non è utile tantissimo da un punto di vista pratico più teorico ma pratico meno perché perché dice sì è esatta se l'integrale non dipende dal percorso vabbè ma io quello in genere vado trovando vado a sapere voglio sapere che è esatta così so che il mio integrale non dipende dal percorso cioè un po' se no diventa il cane che si morde la cota a questo punto abbiamo per rispondere a questo problema abbiamo il secondo criterio secondo criterio criterio di esattezza il secondo criterio di esattezza mi dice che ho una omega forma differenziale di classe c1 su a a è un aperto e qua ci metto una parola che lo dirò dopo allora omega è esatta se se solo se omega è chiusa questo è un bel criterio perché controllare la chiusura di una forma se è c1 è facile faccio vedere della dincluce vedo se sono uguale sta a posto se non ci aggiungo niente il teorema è vero può essere vero perché no che abbiamo fatto un'ora fa abbiamo preso una forma differenziale che era chiusa e abbiamo fatto vedere che non è esatta quello è esattamente il controesempio che in generale non tutte le forme chiuse sono esatte però qual è il problema il problema è che nel nostro dominio della forma che era le due meno l'origine ci stava un buco allora dice forse magari se il buco non c'è sto criterio vale allora uno qua ci mette stellato che significa stellato definizione a si dice stellato se solo se per definizione esiste esiste x con 0 tale che sigma x con 0 x è contenuto in a per ogni x appartamento in a attenzione sigma x x con 0 x è il segmento congiungente x con 0 x ok quindi a come fa con averte il stellato c'è un punto voi che siete abituati a trattarvi elettronica di informatica eccetera chiamatelo pure centro stella dal quale io posso traguardare dritto per dritto tutti gli altri punti o per meglio dire qualcun altro lo potrebbe chiamare panopticon sapete cos'è il panopticon è un tipo di prigione nel quale è fatta in maniera tale che una sola guardia messa in un certo punto può vedere tutte le celle quindi è fatta un po' a semicircol a semicircol quindi da x con 0 io vedo dritto per dritto tutti gli x in realtà allora questo fatto che noi consideriamo l'aperto stellato ci semplificherà piuttosto anche la dimostrazione alquanto anche la dimostrazione però è realmente necessaria questa ipotesi quale quale sarebbe l'ipotesi vera secondo voi che in a non ci siano buchi allora l'ipotesi vera è che A sia semplicemente connesso cioè che non ci siano buchi però allora vediamo scusate vediamo un attimo ma un evento stellato siamo sicuri che non ha buchi? si? non ce li hai allora immaginate che abbia un buco stiamo in due dimensioni ecco dovunque mi metto dall'altra parte del buco non ci posso andare dritto anche se tolgo solo un buco allora prendete un qualunque punto x con 0 congiungete col punto del che ho tolto prolungate e quello che sta oltre quel punto non sta cioè l'apetto con un buco non sta lato quindi noi però qua ce la capiamo elegantemente perché non dobbiamo neanche definire i bucchi semplicemente connessi diciamo solo che stellato stellato funzionerà ma funziona perché stellato implica che non ha buchi non è detto questo qua non è stellato ma su questo insieme qua funziona perché non ha buchi quindi se una forma differenziale fosse esatta qua sopra non ci sarebbe nessun tipo di problema fosse chiuso qua sopra sarebbe sicuramente esatta perché quel tipo di insieme là non ha buchi chiaro? ok non ha non ha non ha